Stava eseguendo lavori di manutenzione durante la pausa natalizia quando la produzione è ferma ma qualcosa deve essere andato storto nelle manovre di routine. Cristian Terilli, 29 anni, di Pignataro Interamna nel Frusinate, è morto schiacciato nel reparto Lastratura della Sevel. La dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri della compagnia di Atessa giunti sul posto per i rilievi. Allertato anche il 118 è giunto l'elisoccorso da Pescara ma i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso del giovane. Terilli, sposato, padre di due bambini, lavorava come manutentore esterno di sinergia in subappalto alla Comau del gruppo FCA. L'incidente mortale è accaduto prima della pausa pranzo. Secondo la FIMCISL Terilli stava sostituendo dei tiranti dell'elevatore che movimenta le fiancate sinistre del Ducato quando gli è caduto addosso schiacciandolo. Cordoglio unanime dal mondo sindacale, non si possono tollerare i due incidenti mortali in quattro mesi negli stabilimenti di FCA, ricordando quello avvenuto ad ottobre scorso a Cassino. Solidarietà e cordoglio per la morte del manutentore del Frusinate anche da parte di FCA. L'azienda, per quanto di sua competenza, riferisce il portavoce, sta collaborando attivamente con le autorità competenti che stanno compiendo gli accertamenti sulle cause dell'incidente, definito da FCA, drammatico ed eccezionale. Come funziona il nostro lavoro? Il nostro lavoro è un lavoro pericoloso, lo sappiamo, perché si lavora sempre con materiali grandi, pesanti. Operai e pensionati si sono fermati lungo la strada che dà su dal retro dello stabilimento dei record, dove insiste un accesso di servizio al reparto la stratura. Sconcerto e commenti sommessi, povero ragazzo. Tra questi c'è anche Mario Donofrio, manutentore e vice caposquadra in Sevel per 39 anni al reparto di montaggio. C'è tanta sicurezza in Sevel, dice Donofrio, pensionato dal primo luglio scorso, ma l'imprevisto, sottolinea, è sempre con noi, manutentori. Si lavora con il pericolo, si lavora, perciò le sicurezze, l'azienda adotta tanta sicurezza, adotta tanta tanta, però l'imprevisto, noi manutentori, l'imprevisto ce l'abbiamo sempre dietro, sempre dietro le spalle, sta sempre con noi.